Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso estivo breve con cui potrete sorprendere i grandi e i più piccoli, facendo con un semplice smartphone o tablet incontrare loro animali in 3D, una tigre del Bengala, un tenero golden retriever ed altri animali. Non ci credete? Ma sì, si chiama realtà aumentata e basta una ricerca su Google, da effettuare sia sul widget, cioè la barretta di ricerca Google che vedete sullo schermo sul desktop del mio telefono, ma anche Google Chrome. Utilizzate un dispositivo mobile e infatti io ora tocco, vedete che avevo precedentemente digitato tigre, ma provate con gatto, provate con cane o leone, sembra una normale ricerca Google, ma appena vado sotto incontra da vicino una tigre, visualizza in 3D un tocco e wow, ecco il suo manto, ecco la qualità, ci sta guardando, attenzione, la ingrandisco e ciao tigre, mi sta guardando negli occhi, sarà buona, speriamo, sì, tutto bene, ecco e possiamo quindi scorrere, avete sentito forse l'eruggito, possiamo scorrere ed osservare l'animale veramente a 360 gradi. Non è finita qui, lo vedete il pulsante vedi nello spazio? I più curiosi tra voi lo avranno notato, attenti bene. Ora copro la fotocamera con la mia mano, tocco vedi nello spazio, attenzione bene, opla, punto il telefono sul pavimento semplicemente della stanza, aspetto qualche istante, lo potete fare in spiaggia, lo potete fare dove volete, vedo già trasparire qualcosa e alzo un attimo il telefono perché ho la sensazione di avere qui nella stanza una tigre. Ciao tigre, e sì, va tutto bene, non ti arrabbiare, e insomma cerchiamo di trovare un accordo. Ed ecco qui, insomma, cari amici ed amiche, un animale vi seguirà ovunque voi siate, in montagna, in città, a casa, al mare. Ecco la realtà aumentata di Google, ed ecco un trucco che se vogliamo è anche un gioco, ma ci permette di fare comunque un uso diverso, carino, educativo, del nostro smartphone o tablet. Vi è piaciuto? Condividete questo video con i vostri amici, amiche, alunni, alunni o colleghi e colleghe, e ci vediamo presto. Ancora un salutone da Andrea Cartotto. Ciao!